Sono Juan Mesa, ambasciatore della Colombia in Italia. Oggi siamo qui a Brescieto per conoscere questo bello paese. Devo ringraziare il sindaco per questa bella iniziativa per rendere omaggio a Luis Carlos Galanzarmiento, il martire della politica nella Colombia. Questa è una bella iniziativa per tutta la comunità di Brescieto. E a nome del mio paese, grazie del cuore a Brescieto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.